Al termine di una lunga e perigliosa crociera sulle rotte del nemico, un nostro sommergibile ritorna alla base. Subito dopo l'attracco, l'equipaggio schierato in coperta viene passato in rivisto dal comandante, che scende a terra per primo. A lui le autorità cittadine e l'ammiraglio comandante della squadra dei sommergibili danno il primo benvenuto.